Il León d'Oro, un tempo luogo di ritiro dei padri francescani, è oggi un elegante relé che, grazie alla sua romantica ambientazione, rappresenta la location ideale per vivere in modo speciale il giorno delle vostre nozze. Diversi gli spazi in cui potrete decidere di vivere in modo suggestivo questo giorno. All'esterno, la terrazza panoramica e il parco, dove si trovano l'incantevole pozzo, le piscine e il suggestivo gazebo degli innamorati, potranno accogliervi fin dal momento dello scambio delle promesse, diventando un romantico sfondo per la cerimonia noziale e durante le stagioni più miti potranno incorniciare il vostro gustoso banchetto all'aria aperta. All'interno, il Salone delle Feste, capace di ospitare 170 persone e la sala ristorante con una capienza di 50 persone, vi accoglieranno in ogni periodo dell'anno, permettendovi di allestire il banchetto in un ambiente curatissimo ed elegante. Per vivere in modo speciale il giorno delle vostre nozze, il personale vi offrirà un allestimento personalizzato dei tavoli, un ottimo servizio di ristorazione e un'assistenza cortese e professionale per tutta la durata dell'evento. Il ristorante Gondola Brusada vi delizierà con specialità preparate in casa con ingredienti a chilometro zero, affascinando il vostro palato con piatti genuini cucinati secondo la tradizione e accompagnati da un servizio attento a ogni dettaglio. Dotato di eleganti camere e di un rilassante centro benessere, il Relais del Veneto Leon d'Oro sarà lieto di ospitarvi a fine giornata perché possiate vivere una romantica prima notte di nozze in un contesto davvero esclusivo.